ciao ragazze ciao a tutte e a tutti nuovo video make up barra vlog allora come state spero bene io altrettanto bene nulla questo video make up dove mi metterò un pochettino di bronzer per colorare un po il viso quindi nulla non ci perdiamo chiacchiere e andiamo al solo allora intanto ho già fatto le mie sopracciglia con prima di tutto le pettinate con questo pettinino qui questo qua che ho comprato il kit per ridefinirlo un po per domarle un po e poi infine vabbè già il fissante non glielo metto perché tanto l'ho finito ma ne ho un'altra scorta per mia fortuna presa da douglas o dallas non so come si dice no douglas vera significa non mi ricordo più ma vabbè e poi insieme prima ho messo ridefinite le semplicemente questa mattita qua della rimel queste non lo so adesso guardo rimel si aspettate che quando vedo la numerazione colore del numero dove non vedo una mazza si è rimel ma il numero non lo vedo dove no vabbè non importa ragazzi cercherò su internet perché non ricordo che numero sia comunque è un marrone un marrone scuro allora vi faccio vedere il colore e questo è il colore poi come bronzer sto mettendo questo quasi sempre per dare un po di colorito al viso al mio viso rimel colorazione numero 004 sun shimmer si eccolo qua e come pennello ho preso questo da pink panda ora vediamo gli occhiali se non vedo nulla intanto mi devo mettere un po di bronzer e me lo metto in diretta con voi allora mi munisco di specchietto e vado a colorare un po il viso a fare un leggero contouring come dicevi qualcuno questo verbo ok poi quando siamo a 3 minuti di video va bellissimo bene mmm non è male da che bello questo colore è bellissimo aspettate continuo a sfumarlo perché se no fa a chiazza mmm esatto quello che ho preso nel video vabbè lo metto un po su tutto il resto del viso ok questo occhiali non sono tanto belle ma vabbè dettagli ok allora qua ho toccato tutto metto gli occhiali mascherà oggi non le metto perché l'altra volta mi è diventato tutto una panda quindi no non mi interessa neanche e mi sistemo i capelli torno subito eccolo qua dunque poi sistemo anche le belle migliori capelli e e io sono pronta per uscire di casa quindi che dire continuiamo il video vlog e ci vediamo quando sono tornata a casa ovviamente a dopo ciao questo è il mio outfit vedete vedo un'altra borsa e questo è il mio outfit vedete ciao il mio outfit ma che sarà quello che mi sono? ma cosa ne sono? ah potassi tanto è vero buongiorno che è una colomba chissà che faccio lo cucco ahahahah o io o no? ma passa in attiva la maschera eh eh è da tanto che me la stai dicendo l'ho già passata un po' di pezzo ah mi piace ah 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 film capisci mimä m strategy la borsa perchè mi ha scomoda per bloggere io la devo mettere così mi ha scomoda capisci se no mi fa attrapellare il video e sto attenta no non sono così lo so stai tranquilla lo so lo vedono ammazza che caldo che c'è 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 Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. 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 Ciao. Sofana. Ok, ok. Ok, ascken tu almeno per te. Noi per teど temaci stuck in perioldo. Bisчи after I'm your sheen. A and come with you, Zdl! Bye, you're looking.